Ciao ragazzi, fra qualche giorno si terrà la nuova edizione per gli Oscar del 2023 e ho aspettato a pubblicare questo video, comunque a registrarlo perché lo sto registrando solamente di giovedì, perché al contrario di molti miei colleghi, prima ho voluto guardare la maggior parte dei film candidati per poi fare anche i miei pronostici, le mie speranze riguardo questi Oscar, quindi sì, ho visto la maggior parte dei film, non li ho visti tutti, mi mancano ancora Tar, sfortunatamente non vedo l'ora di vederlo, di recuperarlo appena possibile, Triangle of Sadness, Women's Walking, comunque mi mancano pochi film, la maggior parte li ho visti, è il primo anno che vedo così tanti film per gli Oscar, quindi sono fiero di me. Questo video si strutturerà così, parlerò delle diverse categorie, magari non con un ordine certo, e per ogni categoria dirò chi vorrei vincesse e chi secondo me vincerà, anche secondo alcuni rumor, alcune voci che si sentono da un po' di tempo, e poi si capisce in realtà quali sono i film favoriti dall'Academy. Naturalmente leggerò tutte le candidature sul telefono, tra l'altro la cover del Garpez di Aldo Giovanni e Giacomo la trovate su Pampling, mi raccomando se inserirete il codice al momento del pagamento, il pensiero 4, il codice, avrete un paio di calze gratis, guardate la bellissima maglietta che ho indosso, link del sito in descrizione, mi raccomando. Ma passiamo alle candidature. Mi dispiace dirlo, ma salterò quelle meno importanti, perché non stiamo qua a dircelo, ma ci sono molte candidature che al grande pubblico non interessano tantissimo, e nemmeno all'Academy, perché l'anno scorso hanno spostato alcune candidature prima dell'evento ufficiale, comunque una brutta figura hanno fatto l'anno scorso, ma non so adesso come funzionerà quest'anno. Fatto sta che sì, comunque ci sono candidature meno importanti e mi dispiace dirlo, ma è così, quindi le salterò direttamente come per esempio miglior cortometraggio, miglior cortometraggio animato, miglior documentario, miglior cortometraggio documentario. L'unico candidato a queste quattro categorie che ho visto è Le Pupille, che trovate su Disney+, e vi consiglio, quindi per il miglior cortometraggio spero vinca Le Pupille, anche perché è mezzo italiano, se non tutto italiano, c'è Alfonso Cuaron all'interno, non ho capito bene se è proprio al 100% dall'Italia. Iniziamo dalla categoria più importante, ovvero miglior film, che è sempre l'ultima all'evento ufficiale degli Oscar, tranne nell'edizione in cui era candidato anche Cedwick Boseman, e infatti quella è stata un'altra brutta figura, perché si è capito subito che hanno voluto tenere miglior attore come categoria ultima per tenere la gente attaccata allo schermo, e poi ha vinto comunque Anthony Hopkins per The Father, meritato, ok? Ma per il miglior film quest'anno sono candidati Top Gun Maverick, Women's Hawking, Everything Everywhere All at Once, I Spiriti dell'Isola, Triangle of Sadness, The Fableman, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar, La Via dell'Acqua, Elvis e Tar. Gli unici film che non ho visto appunto sono Triangle of Sadness, Women's Hawking e Tar. Chi vorrei vincesse? Allora, tra questi film io spererei vincesse un... Gli Spiriti dell'Isola o The Fablemans, perché se lo meritano secondo me, ma sono abbastanza convinto che vincerà Everything Everywhere All at Once. Miglior film d'animazione? Red, Pinocchio, Marcel De Schelle, Il Mostro dei Mari e Il Gatto con gli Stivali 2. L'unico film che non ho recuperato e che non voglio assolutamente recuperare perché mi ha annoiato fin dall'inizio è Il Mostro dei Mari. Gli altri li ho visti tutti, più o meno tutti meritevoli del premio, ma tra tutti spererei assolutamente vincesse Pinocchio e in questo caso, anche se Il Gatto con gli Stivali 2 se lo meriterebbe davvero tantissimo, ma in questo caso penso che il mio pensiero si allinerà con la realtà, quindi Pinocchio secondo me si porterà a casa la statuetta. Miglior film straniero? Niente di nuovo sul fronte occidentale, Argentina o Argentina 1985 che trovate su Amazon Prime, The Quiet Girl, Close e E-Ho. Ho visto solamente Niente di nuovo sul fronte occidentale perché penso sia l'unico che ha già la vittoria in tasca perché essendo candidato anche come miglior film è già implicito che vincerà come miglior film straniero, quindi anche in questo caso Niente di nuovo sul fronte occidentale sarà il vincente sia per me ma anche per la realtà comunque. Miglior regista? Martin McDonagh per Gli Spiriti dell'Isola, Todd Field per Tar, Ruben Ostlund per Triangle of Sadness, Daniel Kwan per Everything Everywhere All At Ones, ce la farò, Daniel Scheinert per Everything Everywhere All At Ones, Steven Spielberg per The Fablemans. Io spererei vincesse Steven Spielberg per The Fablemans, ma è molto probabile che anche in questo caso Everything Everywhere All At Ones si porterà a casa il premio con uno dei due registi vincenti. Miglior attore? Abbiamo Brendan Fraser per The Whale, la recensione la trovate sul canale, Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola, Bill Nighy per Living, e Paul Mescal per After Sun. Io vorrei vincesse Brendan Fraser per The Whale, molto probabilmente sarà anche così, ma secondo me l'Oscar se lo porterà a casa Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola. Miglior attrice? Andrea Riceboro per Too Liesly, Michelle Williams per The Fablemans, Kate Blanchett per Tar, Ana de Armas per Blonde, e Michelle Yeoh per Everything Everywhere All At Ones. Potrebbe vincere Michelle Yeoh, sono anche abbastanza convinto che sarà così, ma in questo caso sono anche contento per la vincita. Miglior attrice non protagonista? Angela Bassett per Black Panther Wakanda Forever, Carrie Condon per Gli Spiriti dell'Isola, Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All At Ones, Stephanie Su per Everything Everywhere All At Ones, e On Ciao per The Whale. In questo caso vorrei vincesse o On Ciao per The Whale, oppure Carrie Condon per Gli Spiriti dell'Isola, ma molto probabilmente vincerà Angela Bassett per Black Panther Wakanda Forever. Che sì, alla fine era una delle migliori cose del film Angela Bassett, però da lì a vincere un Oscar non lo so. Miglior attore non protagonista? Abbiamo Brendan Gleeson per Gli Spiriti dell'Isola, Brian Thierry Henry per Cosway, Jad Irsh per The Fablemans, Barry Kiyogan per Gli Spiriti dell'Isola, e Kyo I Kwan per Everything Everywhere All At Ones. Per quanto mi riguarda qui potrebbe meritarselo anche Barry Kiyogan, ma sarei contento anche per Kyo I Kwan ritornare alla grande, alla recitazione, visto che non recitava da tantissimo tempo, con la vincita persino di un Oscar. Potrebbe essere divertente e comunque gratificante, mi piacerebbe vincesse lui, però diciamo che nella lista ci sono altri nomi forse un po' più meritevoli. Miglior sceneggiatura originale abbiamo Everything Everywhere All At Ones, Gli Spiriti dell'Isola, Triangle of Sadness, The Fablemans e Tar. Ragazzi, inutile dirlo, Everything Everywhere All At Ones si porterà a casa un casino di Oscar, ed è già prevedibilissimo così, ma spererei vincesse Gli Spiriti dell'Isola. O anche The Fablemans comunque, perché è un film che ho apprezzato tantissimo. A me Everything Everywhere All At Ones è piaciuto anche molto, però non lo so, non lo vedo come realmente papabile a diversi Oscar, almeno la vincita di diversi Oscar. Miglior sceneggiatura non originale, Living, Top Gun Maverick, Women Talkin, Glass Onion e niente di nuovo sul fronte occidentale. In questa lista sono stati inseriti anche Top Gun Maverick e Glass Onion, pur essendo originali perché sono dei sequel, quindi secondo le regole dell'Academy i sequel vanno nelle sceneggiature non originali, non so per quale motivo, però è così. Probabilmente Glass Onion, un po' troppo esagerato agli Oscar, non l'avrei visto assolutamente candidato in nessuna delle categorie, però è qui. Forse tra tutti, per non lasciare a bocca asciutta il film che ha aiutato tantissimo il cinema, Top Gun Maverick vincerà, e secondo me potrebbe anche meritarsi questo premio. Miglior colonna sanora abbiamo Babylon, Everything Everywhere All At Ones, Gli Spiriti dell'Isola, The Fablemans e niente di nuovo sul fronte occidentale. Tra i film che ho visto, secondo me, Gli Spiriti dell'Isola o The Fablemans potrebbero meritarsi la candidatura, la vincita, però Babylon vincerà. Miglior canzone originale abbiamo Natu Natu per Ararar, This Is A Life per Everything Everywhere All At Ones, Lift Me Up per Black Panther Wakanda Forever, All My End per Top Gun, e Applaus per Tell It Like A Woman. Per quanto mi riguarda, tra tutte queste, quelle veramente meritevoli della vincita, sono Rihanna e Lady Gaga, rispettivamente per Black Panther Wakanda Forever e Top Gun Maverick, però non so per quale motivo vincere, il motivo lo so in realtà, perché è un film indiano, ma vincerà Natu Natu per Ararar. E molto probabilmente saranno i miei gusti così occidentali, ma no. Migliori effetti speciali abbiamo Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever, niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar La Via dell'Acqua e The Batman. Qui se non vinci Avatar La Via dell'Acqua, mi arrabbio, perché è impossibile. Miglior montaggio abbiamo Top Gun Maverick, Everything Everywhere Le Twins, Gli Spiriti dell'Isola, Elvis e Tar. Secondo me qui Gli Spiriti dell'Isola potrebbe vincere, quindi comunque seguo questo pensiero, perché il montaggio comunque è molto molto buono. Elvis, sinceramente il montaggio forse era una delle poche cose che non mi aveva convinto al 100%, Everything Everywhere Le Twins ha un montaggio frenetico, a volte anche confusionario, quindi no, anche se essendo Everything Everywhere Le Twins molto probabilmente potrebbe vincere anche in questa categoria, e Top Gun Maverick, sì, anche lui è un montaggio normale, buono, quindi, non lo so, comunque Gli Spiriti dell'Isola secondo me vincerà. Miglior trucco, Black Panther Wakanda Forever, niente di nuovo sul fronte occidentale, Elvis, The Whale e The Batman. Io vorrei vincesse The Batman solo per il trucco di Colin Firrell, già lui basta per la vincita, però potrebbe vincere anche The Whale, non ne sarei assolutamente scontento, Elvis, quello che abbiamo visto nel film era Elvis a tutti gli effetti, quindi potrebbe anche starci, ma spero e credo allo stesso tempo che The Batman vincerà questa categoria. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto quale di questi film vi manca all'appello, se li avete visti tutti, e soprattutto cosa ne pensate. Vi ricordo che sul mio canale, se cercate, ci sono anche alcune recensioni dei film di cui ho parlato, come per esempio The Whale. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti dei miei social, i link di Pampling e del Fantasia Store, con i rispettivi codici, il pensiero 4 per un paio di calze gratis, e Andri 5 per il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati dal sito. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!